L'export a retino chiude in segno negativo, anche se, dati alla mano, è il secondo più importante dell'intera regione. La flessione è dello 0,9% rispetto all'anno precedente e rispecchia il trend iniziato nel terzo trimestre 2023, dove era stata registrata una battuta d'arresto dell'8%. Il fatturato complessivo è di oltre 7,8 miliardi di euro, di pochissimo inferiore a quello del 2022, anche se adesso è il comparto dei metalli preziosi a soffrire maggiormente. L'analisi è quella fornita dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena sulla base di dati Istat. A frenare l'ascesa dell'export a retino, dunque, è stato il comparto dei metalli preziosi. Come spesso accade, il comparto gemello della gioielleria e oreficeria ha invece registrato un andamento di segno contrario. In questo caso, commenta Massimo Guasconi, il prezzo dell'oro potrebbe aver giocato un ruolo importante nella determinazione del risultato. Al netto di questo, la reale domanda da parte del mercato estero a fare poco più che stazionaria. Passando alla moda, altro comparto strategico dell'export a retino, nel terzo trimestre si segna una crescita tendenziale del 2%, segnali di rallentamento da parte dell'abbigliamento e della pelleteria che comunque non intaccano il segno positivo. Tra le altre tipologie merceologiche, gran parte dei settori risulta in crescita. Tra i principali si evidenziano prodotti alimentari, apparecchiature elettriche, elettroniche, macchinari, inflessione, oltre ai metalli preziosi, bevande, prodotti chimici, autoveicoli ed altri mezzi di trasporto.